Sì a maggioranza al bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia regionale di protezione ambientale con 21 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti. È stato respinto all'ordine del giorno presentato da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, approvata invece la proposta di risoluzione di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. È Matteo Manganelli il vincitore del concorso Toscana e Spot 2021 Ritorno al Futuro, secondo posto per il videomaker Giovanni Polisano, terzo per Andrea Palumbo. Menzione d'onore per il 14enne Guido Fontanella, che ha ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo il Pegaso d'Argento. Il bilancio 2020, come illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, è simile a quello degli anni precedenti, eccetto che per l'utile di esercizio pare a 6.153.594 euro, dei quali, su proposta di Arpat stessa, l'80% pare a oltre 4.900.000 euro restituito alla Regione e il restante 20% pare a oltre 1.200.000 euro quale riserva legale a copertura delle eventuali future perdite. Una cifra che deriva dalla smobilitazione del fondo di riserva con i contenziosi risolti positivamente. La Presidente ha ricordato che il valore totale della produzione nel 2020 è di 54.500.000 euro e il costo della produzione è di 46.100.000 euro nel 2020. Il bilancio di Arpat che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale è stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della Regione, un ente che nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente, delle norme, il suo essere per noi un punto di riferimento. Abbiamo anche in Commissione ascoltato il Presidente e il Direttore Tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo Arpat, alla luce anche delle tante problematiche che in Regione Toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese, ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci è imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad Arpat per far sì che l'ambiente venga protetto, soprattutto preventivamente. Anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di Arpat, che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani e questo è un bene che la Regione Toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Oggi riscontriamo dal bilancio di Arpat un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti, nell'assessorato, perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare. Non possiamo accettare che Arpat e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi abbiamo espresso un voto contrario anche perché Arpat in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Il bilancio di Arpat denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. Paradossale perché l'azienda ha chiuso un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla regione, in virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista delle applicazioni del Limo. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici, quindi delle risorse a disposizione dell'agenzia, per svolgere appieno il proprio compito perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CHEU. Abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinate dalla presenza del CHEU e conseguenti bonifiche. Il PD ha ritenuto di non votarlo. È un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la regione sta attraversando, non solo per le vicende del CHEU e quindi ci aspettiamo che la regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema regione toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente dopo averlo più volte presentato il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso sia stata approvata dalla maggioranza che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT la mancanza appunto di risorse che si avevano non le ha messe in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33% e quindi questo fa capire che investire in ARPAT è fondamentale e che la regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Sono stati premiati martedì 7 dicembre nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso i vincitori del concorso per videomaker Toscana e Spot 2021 Ritorno al Futuro indetto dal Core come il Comitato Regionale per le Comunicazioni. A vincere il primo premio è stato Matteo Manganelli il video dal titolo Toscana 2050 nostro futuro secondo la giuria si è distinto per la semplicità e la schiettezza del messaggio sviluppato secondo i pensieri dei giovani e giovanissimi attenti al fare più che al dire. Il secondo classificato è Giovanni Polisano autore del video secondo te al terzo posto si è piazzato Andrea Palumbo con aria. Menzione speciale per Guido Fontanella 14 anni autore dello spot La Toscana del Futuro già nel presente che il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo ha voluto premiare con un riconoscimento speciale il Pegaso d'Argento. Ringrazio Corecom perché davvero è andato nella direzione che come Consiglio regionale volevamo quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050 è il primo passo davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare la sostenibilità, l'intelligenza artificiale la Toscana del domani ha anche tante domande come la domanda della bimba che è l'attrice principale del video vincitore che ci mette tanti se, tante domande e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022 perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente più aperta una Toscana che guardi con speranza al futuro alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione l'idea quest'anno era molto ambiziosa vedere la Toscana nel 2050 Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole altri hanno costruito dei veri e propri soggetti Insomma un prodotto molto bello lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom Chetica Fissi e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi a loro principalmente ma anche ad altri tecnici della regione hanno seguito i lavori giudicati e oggi con grande soddisfazione siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati e naturalmente poi saranno disponibili a disposizione di tutti con noi oggi ci sono anche i primi tre vincitori che ovviamente saranno presentati durante questa conferenza stampa Facevo parte della giuria ho cercato di portare le mie competenze acquisite bene o male con una esperienza televisiva più che filmica però ormai di svariati decenni e che dire il tema era insidioso è sempre insidioso parlare di Toscana perché il già detto il già visto è sempre in agguato quasi tutti i 17 partecipanti al concorso sono riusciti ad evitare questa insidia l'hanno evitata sicuramente i tre che hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio sono prodotti che per quanto almeno riguarda la competenza da noi acquisita hanno tutti un grosso merito non c'è stata una unanimità in partenza la giuria ha discusso molto segno non tanto di una mancata convinzione su chi doveva arrivare primo, secondo o terzo quanto della difficoltà di scegliere veramente nella qualità dei prodotti presentati e anche un po' naturalmente nel punto di vista spesso soggettivo che questo tipo di valutazioni hanno c'è un fatto oggettivo di qualità che non può essere discusso ma c'è anche un elemento di soggettività di preferenza di cui tra l'altro mi piacerebbe fare un piccolo coming out fra poco per spiegare per esempio che io nella lotta tra primo e secondo ero effettivamente personalmente per quel che vale molto indeciso grazie a tutti